La vostra storia è anche la nostra, è quella di che è felice come una Pasqua, soprattutto a Pasqua. Per questo alla Coop ci sono i prezzi pop. Con 5 euro di acquisto sui prodotti Fiorfiore, hai un buono da 5 euro che prendi questa settimana e usi la prossima. La Coop sei tu.